Salve a tutti, eccoci qua, oggi, dico oggi, se vedete questo video il giorno della sua uscita, si finiscono le Olimpiadi Invernali di Peon Chang, ecco, ok, scusate, ho la copertina del gioco qua davanti e me lo sono dovuto tenere qua davanti per ricordarmi il nome di sto posto, comunque, finiscono oggi le Olimpiadi Oh, le Olimpiadi, comunque, tutte le Olimpiadi positive per l'Italia, eh, 10 medaglie, non so una cosa da poco, soprattutto di queste 10 medaglie, 3 sono d'oro, proprio non sono cosa da poco, eh Io, ah, perché mi fa così? Posso zoomare? Eh, avvicina, avvicina, avviciniamo Allora, noi abbiamo fatto l'oro qua, abbiamo già fatto l'oro, è scesa libera, quindi direi per oggi no Però oggi, allora facciamo una cosa un po' più lunga, no, questo cos'è slope style Ah, sono cose così, no, però voglio, voglio, voglio andare su cose proprio puramente olimpiche Voglio andare su cose puramente olimpiche, allora il Super G, dai, Super G Ci ho fatto un argento, Super G, però, va bene, riproviamo, vediamo cosa riesci a fare Dice, oggi farò questa puntata un po' per salutare le Olimpiadi, così, a bodo mio Olimpiadi, ottime, perché, diciamo, 3 medaglie di cui, cioè, 10 medaglie per l'Italia di cui 3 d'oro Insomma, io non ci avrei mai pensato né creduto, però, bene così Eccolo qua, il nostro australiano, che io purtroppo non ho modo di mettere, non so, non ho mai avuto modo di mettere il mio nome Purtroppo Olè Scusate, perfetto, ho iniziato alla grande, dai, ho iniziato bene, no Bellissimo No, ma, ma, oggi, oggi benone, proprio oggi benone, mi sembra un ottimo modo per chiudere questa serie Olè Ok Ok Bene Eeeh, bene Dai Minchia non vedo E la musica è carina, però, io spero Oh, siamo due decimi sopra Oh, neanche il tempo di dirlo, siamo due decimi sopra Ma, vabbè Olè, qua, se non mi sbaglio, qua in due mance, quindi Eh, mamma, qua ci siamo proprio fermati Eeeh Io, troppo Eeeh, bene Olè Qualche maniera abbiamo ripetato Saremo dietro di tre ore e mezzo Però L'abbiamo Siamo riusciti A non uscire di pista Ah Eh, fa un secondo e uno Eh, grazie Con quella Cosa Oh, io, non, non so come Eh, beh, ciao Tanti saluti Tanti saluti Olè Questo Altri due Ecco Qualcosa di più Sì, vabbè Bene Ottimo, ottimo, eh Benissimo Allora, dai Superdito, infatti, è più Un po' più di Ho la prima porta Perfetto Vai Ok Olè Bene Bene Ma però Deve girare Quando ne coi Ok Benissimo Beh Ah Ah Due Oh, do un due veci Mi sembra Non mi sembra Che se l'ha dato Così Bene Eh Oh 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 Ah Ah Bene Ho Ho il dubito Che riuscirò A combinarci Qual Bene Eh Perché giustamente Cerco di premere Lo città e di Eh Ok Bene Bene No ma sto andando benone Sto andando benissimo Porca mitere Vai Olè Per fortuna Non ci sono caricamenti Tra un tentativo E l'altro E E Questa è un'ottima cosa Bene Ok Bene Benissimo Mi piace così Sta zitto La vittoria si avvicina Sta zitto Don me la tirare Ok Bene Bene Ci sono Vai Bene Mamma Come abbiamo rallentato Qua Al pelo Cosa Quasi un secondo Dietro sono Quale pelo Quale pelo Pelo De che Mamma mia Quanto tempo Che avevo perso Sicuro Ma l'altro Ne qua Non c'ero Praticamente Ma è arrivato E Ehi Dai che ci siamo Oh Non Non sbocciare La Olè Secondi 1.33 Ok Due secondi Solo Dietro A Armelier Armelier Ah no È singola Manche Ok Bene Un argento Ma perché L'abbiamo già vinto Sapete che c'è Io riprovo Io riprovo Sì Io riprovo Io riprovo Beh Tanto È mance Singola Entra forte Nella Ok Bene Bene Benissimo Bene Un decimo Ti ricordi L'ultimi Bene No Eh qua Per forza Dico se perdo Perché è strettissimo Ok Ma Ma Quasi combaciano Ma quasi combaciano Cosa Mezzo secondo Ti pare niente Ok Eh 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 Tecappallito Bene Bene Dai Eh Eh Che Signore Di quanto Di quanto Di quattro decimi Di quattro decimi Di quattro decimi No vabbè Ragazzi voglio provarci di nuovo Scusate Ci voglio riprovare di nuovo Poi proverò altro Ma questo Non lo slalom Ma io ve lo dico Subbio slalom È una cosa che Cioè Non è proprio che Secondo me è stato anche Fatto male Lo slalom Dal punto di vista Pidio ludico Però Mamma mia Qua malissimo Qua male Qua male Mamma mia Qua malissimo Subbio Qua proprio male Sto andando Sono abbastanza convinto Che io stia andando Parecchio male Qua Difficile esprimersi ormai Ma che è difficile esprimersi ormai Ma che è difficile esprimersi ormai Ma che è difficile esprimersi ormai Due secoli No vabbè Ok Attacca la curva secca Ok Oh oh E niente Vai Oh Beh 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 Figua Ma qua Allora L'ultimo tentativo Che ti passa altro Ve lo prometto Ve lo prometto Che ti passa l'altro Eh 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 Ah Ma Tra l'altro è andato malissimo Qua Eh 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 Se continua così Non dovrebbe averla presa MIGIA Addirittura a mezzo secondo Ah E c'è perso qua Perso tutto qui Ah Eh No Ah Eh ciao Qua Sarò dietro di un secondo e mezzo Ah Meno un secondo Meno un secondo dietro sono qua Eh Infatti Eh 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 Vabbè Ah Ciao Eh No 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 Pisa sulla montagna No No Ma vi prometto che è l'ultimo tentativo E non voglio mancare la promessa Spostati Allora Un'altra cosa proprio da Slalom gigante Lo slalom speciale no Allora Il gigante Proviamo Ah che ne sono due mangi Proviamolo dai Vediamo un po' cosa si riesce a fare Ah Beh Questo ok Dio direi saltiamo il filmato Dai Andiamo 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 cosa si riesce a fare Il podio è dal 1.33 in su Credo che qua sia però due mangi Bene No ma sto andando Iniziato benissimo Ehi Ehi Aaaaa Eh Aaaaa Ehi Trenge 3 secondi Minchia Va bene che Minchia Olè Benissimo Minchia 3 secondi però assai Mio temmelo Ok Troppo Bene Mi sono perso quella curva Porca Mamma mia Bene No ma Io ripeto Meno male che Non ci sono caricamenti Tra un tentativo e l'altro E' un ottima cosa Di questo gioco Mamma mia Troppo rallentato Eh ciao La vittoria si avvicina ma bisogna rimanere concentrati No io non mi Cito ancora di questo gioco E non mi spiegherò mai Aspetto che stavo facendo la peggiore discesa di tutte E ero 4 decimi avanti Vabbè Ok E non esco a capire Non me lo so Spiegare Eh 2 secondi Eh ora lo capisco 2 secondi Vabbè Che anche se poi è relativo Che se non mi è uscito meglio La seconda parte che la prima Però va bene Eh Sarà io Io probabilmente non ci capisco nulla Però Ma Dai Mamma mia Ok E poi Finisco secondo 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 Va bene Secondo Alla fine 6 decimi Dietro i 6 decimi Il terzo è a A distanza 1,28 Ce l'ho Va bene E ti darà per la seconda mash I tempi di iatt li hanno fatto Allora Winkler ha peggiorato Quello ha peggiorato Tremblei ha peggiorato Tutti hanno peggiorato Dai Ok Ok Tocca a noi Se lo abbiamo finito Eh Non è che cadiamo Va bene Va bene Anzi Di me che va Va malissimo Uguale bene Ok Vai Mamma Ecco Ora Mamma Ecco E' quella cosa che è nuovissimo Puoi vedere che mi dà vantaggio di Due ore e mezzo di vantaggio Cioè Eh no Invece sono dietro di 77 centenini Ma a me sembrava di essere andato malissimo Aaaaaa A me sembrava di essere andato malissimo Cosa? Aaaaaa 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 Ia 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 marce primi 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 non sono un gigante bellissimo che bella sta cosa e vai e vai chiudiamo così e allora chiudiamo così chiudiamo così chiudiamo con questa vittoria con il nostro Steven Bradbury che poi non è lui ma fa niente abbiamo portato il nostro Steven Bradbury all'oro ancora una volta dopo lo short track del 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 2006 credo o 2002 dunque sotto dei cinchi sotto dei citi e con il nuovo oro e con questo con questo oro direi salutiamo le Olimpiadi Invernali salutiamo per ora Steve po' chi lo sa e intanto saluto a voi però io non definitivamente ovviamente perché vi poi ci diamo vi do apportamento insomma alle prossime puntate del al prossimo non prossime puntate ai prossimi video ai prossimi i prossimi gameplay i prossimi video di qualsiasi cosa quindi da parte mia un saluto dorato a tutti quanti voi e alla prossima a tutti i prossimi video a tutti i prossimi video a tutti i prossimi video